San Giovanni Tiatino conferma la sua fiducia a Luciano Marinucci, sindaco uscente che a queste elezioni si è trovato a sfidare due avversari. Da un lato Verino Caldarelli con Insieme PD e dall'altro Mario Cutrupi del Movimento 5 Stelle. Vince con il 52-82%, una vittoria che si palesa quasi subito dopo le prime 2000 schede e oltre 1000 vedevano il nome di Marinucci, 650 quelle di Caldarelli e poco più di 300 per Cutrupi. Cinque anni di lavoro comunque hanno prodotto per noi un ottimo risultato in termini di sostenibilità. Gli elettori lo hanno compreso e questo mi fa molto piacere perché noi in questi ultimi anni abbiamo cominciato a lavorare anche sulla mentalità del Paese, renderli più consapevoli e responsabili di quello che è un'attività amministrativa, di chi li rappresenta, ma anche delle risorse che noi amministriamo. Un mandato portato a termine ed ora il pensiero va già ai nuovi obiettivi per la città. Al primo posto, dice il sindaco, la vivibilità. Stiamo lavorando nella direzione di dare un po' più di tranquillità alle famiglie, servizi, dobbiamo spendere 11 milioni di euro che abbiamo in banca. Stiamo lavorando per dare un'opportunità di lavoro attraverso il rilancio dell'edilizia, in primis, ma anche dell'attività commerciale, perché con un nuovo piano di riassetto commerciale adesso avremo la possibilità di far nascere altri 4 insediamenti, anziché 8, quindi diciamo che abbiamo lavorato su questa linea.